Qual è un passaggio per i suoi colleghi sindaci che hanno deciso di rimuovere la foto di Mattaralletro all'ufficio? Trovo veramente una tristezza assoluta, veramente anche un po' da vergognarsi. Stiamo pensando a qualche modo per sostenere il Presidente della Repubblica, secondo me non deve essere solo un sostegno del Presidente della Repubblica, perché alla fine il Presidente della Repubblica fa riferimento ai valori europei e quindi è di una linea politica del nostro Paese nel tempo. Io penso che si debba sostenere il Presidente, ma si debba sostenere con forza i valori europei. Stiamo pensando a qualche formula per far sentire anche da Milano che la pensiamo così, perché sì, ciò è importante per il nostro Paese, Milano è vitale, Milano può garantire il benessere ai suoi cittadini, solo essere una città veramente internazionale, questo io penso abbia capito tutto.